Salve, in questo video spiego perché qualunque logica, sistema, prospettiva di pensiero, filosofica, non filosofica, ritenga che sia anche solo possibile che un qualsiasi essente, un qualunque positivo, diventi altro da sé, rischia di cadere nel puro trivialismo. Infatti, ritenere che sia possibile che un qualunque positivo possa diventare altro da sé, significa prospettare che l'essere possa diventare nulla. Spiego, l'ontologia severiniana mostra la necessità della struttura originaria, dell'opposizione universale del positivo e del negativo. Essa è la sintesi del principio di identità e di differenza, ed è struttura originaria in quanto mostra, per via elenctica, che l'identità di ogni cosa è in relazione al suo differire da tutte le altre, e viceversa. Quindi non si avrebbe identità senza il differire di essa dalle altre, e non vi sarebbe la differenza se non vi fosse un'identità rispetto a cui differire dalle altre. Questa determinatezza è incontrovertibile perché qualunque tentativo di negarla, e anche il massimo suo tentativo di negarla, finisce in autonegazione perché deve assumerla per significare ciò che intende affermare. Per prospettare, infatti, una qualunque situazione, deve prospettare che quella situazione, anche quella appunto tesa a negare l'opposizione, sia determinatamente quella situazione e non un'altra, e che gli elementi che dovrebbero costituirla siano quelli e non altro. Insomma, anche per prospettare, ad esempio, che una cosa sia altro da sé, si deve assumere che innanzitutto vi sia quel sé come determinato, è incontrovertibile, per poter avere l'altro da sé, per poi tentare l'impossibile affermazione, o meglio, l'impossibile prospettazione, secondo cui quella cosa X è altro da se stessa X, deve appunto esserci però intanto X come determinata, altrimenti non vi potrebbe neanche essere il tentativo di avere una X che è altro da se medesima X. Ora, il divenire comporta l'identificazione impossibile di essere nulla. Aristotele non aveva risolto il problema, ma lo aveva occultato con la sua formulazione del principio di non contraddizione. Infatti, che una stessa cosa X non possa essere simultaneamente esistente-essente e non esistente-non essente, nello stesso tempo è una soluzione apparente, perché è dello stesso X che in tempi diversi si predica l'essere o il non essere, l'esistere o il non esistere. È sempre dello stesso soggetto X che la prospettiva nichilista qui difesa da Aristotele involontariamente ritiene che sia il soggetto che è esistente-non esistente, anche se in tempi diversi. Non c'entra nulla il fatto che sia in tempi diversi. Dello stesso soggetto ritiene che vi sia un tempo in cui può essere e un tempo in cui può non essere. Non solo. Il problema è che non vi è solo il momento in cui X è e il momento in cui X non è, ma vi è anche il passaggio, vi deve essere quel passaggio impossibile dall'essere al non essere e viceversa. E in quel passaggio si dovrebbe prospettare l'impossibile situazione di coincidenza tra l'essere e il non essere, dove non potrebbe realizzarsi tale sintesi, non perché semplicemente sarebbe contraddittoria, ma perché in quella sintesi l'essere non sarebbe essere. In quanto l'essere è tale proprio perché non è nulla. Ma se si trovasse in una situazione in cui non si distingue dal nulla, ma vi coincide, l'essere certamente non sarebbe essere. E sicuramente non sarebbe lo stesso essere che in un altro tempo si distingueva dal nulla. Non era nulla. Dunque, è impossibile che l'essere e il nulla coincidano perché l'essere e il nulla non potrebbero neanche essere presenti in quella sintesi, in quanto l'essere non sarebbe se stesso, quindi non potrebbe neanche essere presente. Condizione necessaria per essere presente è che si sia quel che si è. Ora, altrimenti la cosa che dovrebbe essere presente non sarebbe quella e non sarebbe presente. Inoltre, la sintesi impossibile che dovrebbe avvenire nel passaggio tra l'essere e il non essere e viceversa dovrebbe rendere anche il nulla come presente ontologicamente, quindi dovrebbe esserci uno stato alternativo all'essere che non potrebbe in alcun modo esserci. Perché se il nulla esistesse in qualche forma sarebbe altro dal nulla e sarebbe non distinto dall'essere. infatti la differenza fondamentale e innegabile tra l'essere e il nulla è che l'essere c'è ed è qualcosa e il nulla non c'è, non ha alcuna determinazione e non esiste in alcun modo. Quindi il nulla, ontologicamente, non può in alcun modo esistere. Esiste solo il significato del nulla, ma il significato stesso non è un nulla. Il significato del nulla non è nulla, ma è un positivo che indica e significa l'insignificanza e la nullità del nulla. Bene, una volta chiarito questo, la questione che voglio sottolineare è che, come ha spiegato Severino, una volta ha appurato che l'essere non può essere nulla, non può divenirlo, non vi può essere il passaggio dall'essere al nulla e viceversa. Anche il passaggio contrario appunto non può avvenire, perché il nulla, che non esiste e non è, non può subire alcun passaggio, non può identificarsi e divenire qualcosa. E nella concezione non severiniana della variazione fenomenologica dell'esperienza immediata, che viene interpretata in modo ordinario come divenire, e che non è invece evidente come divenire, anzi è impossibile, stando alla struttura originaria, che sia autentico divenire. Dicevo, nella prospettiva ordinaria che crede nel divenire, non si può fare a meno di pensare che qualcosa si annulli e qualcosa si produca, perché se nulla si producesse, e se nulla si annullasse, non vi potrebbe essere alcun divenire autentico. Ma tutto esisterebbe già, e quindi si darebbe ragione, in modo tra l'altro comunque contraddittorio, alle tesi di Severino, almeno in parte, perché si prospetterebbe una sorta di eternalismo, ma non prospettando al contempo l'apparire infinito, sarebbe un eternalismo contraddittorio, sempiterno, potremmo dire, dove tutte le cose esisterebbero in tutti i secondi, in tutti gli istanti del tempo. E ciò non solo non è possibile, soprattutto in una prospettiva diveniente, ma è anche negato dall'evidenza fenomenologica. Severino ha giustificato la variazione fenomenologica dicendo che sì, è innegabile, ma si giustifica ritenendo che esista l'apparire infinito come luogo di coscienza, dove tutti i momenti della realtà sono eternamente ed appaiono eternamente, in modo immutabile. Quindi sono sempre quel che sono, prima, durante e dopo, tra virgolette, il loro apparire nella nostra coscienza. La nostra coscienza è una parte di quella infinita. Bene, Chiarito tutto questo, come ha spiegato Severino, l'essere non può diventare nulla, l'essere di ogni positivo, ogni positivo è un essere, perché è un qualcosa di determinato già per il sol fatto di non essere nulla, ed è determinato doppiamente perché non è le altre cose. Se così non fosse, tra l'altro, se il mondo che appare alla nostra esperienza non fosse, almeno come contenuto dell'esperienza, determinato e distinto nelle sue parti, non potrebbe neanche apparire la molteplicità. Ora, che la molteplicità appaia è auto-evidente, altrimenti non si potrebbe neanche negare che il mondo possa essere molteplice. E ritenere che il mondo sia una molteplicità di essenti non vuol dire negare che vi sia un'unità strutturale che congiunga, tra virgolette, ma di più che sia una struttura unica e al contempo composta da infinite parti. Una cosa non esclude l'altra. Certamente, in chiave eternalista severiniana, non vi è alcun problema che una realtà, un unico totale, come la realtà stessa, sia originariamente composta da infinite parti, non separate, diverse tra loro, ma non separate. E anzi, la struttura originaria è ciò che esclude la separazione tra le cose e mostra come il differire delle cose implica la loro unità, perché è nella loro unità che può apparire il differire, è nella relazione che può apparire il differire di una cosa con le altre. Bene. L'essere di un qualunque positivo rispetto a un altro è il suo non essere. A non è B, B non è A, quindi B è il nulla tra virgolette di A e A è tra virgolette il nulla di B. Prospettare che un qualunque essente possa o smettere di esistere o diventare qualsiasi altra cosa e quando si dice essente, attenzione, si dice qualunque positivo, che non sia appunto un puro nulla. Siccome è stato definito il nulla come ciò che non esiste in alcun modo, non ha nessuna determinatezza, segue che qualunque determinazione appaia, qualunque carattere mostri, qualunque aspetto della realtà si mostri in qualunque modo, è qualcosa, a prescindere dal modo in cui esiste, da come esiste e da cosa sia. questo discorso vale in qualunque tipo di ontologia ipotetica, qualunque cosa fosse la realtà, qualunque cosa fossero le cose, è certo che non sono un puro nulla. Questo rilievo è straordinario da parte di Severino, come lui abbia mostrato il carattere radicale dell'opposizione tra l'essere e il nulla. Di conseguenza, una qualunque ipotesi ontologica, metafisica, epistemica della realtà, prospetti che un qualunque essente possa divenire, quindi essere a un certo punto non più identico a se stesso e quindi non più distinto dal suo non essere, dalla negazione totale del positivo dell'essere, sta prospettando qualcosa di impossibile e non solo qualcosa di impossibile in quanto autonegantesi, ma sta prospettando un'ipotesi che rischia di cadere nel puro trivialismo, perché se si lascia aperta anche solo la possibilità che un singolo essente in qualunque livello logico, ontologico, eccetera, possa smettere di essere o incominciare ad essere, possa smettere di esistere o incominciare ad esistere, possa diventare altro da sé e quindi smettere di essere se stesso, sta prospettando che l'essere possa essere nulla, possa diventare quindi essere nulla e se lo prospetta per un caso, non c'è nulla che possa impedire a quel punto che in tutti gli altri infiniti casi della realtà possa avvenire lo stesso. se si lascia aperta la possibilità che un positivo o qualsiasi possa diventare nulla o trasformarsi eccetera, che poi alla fine trasformarsi appunto significa diventare il non essere di quello che si era prima, A che diventa B vuol dire che A diventa il suo non essere più A perché B è il non essere A da parte di A e in qualunque modo si possa concepire la trasformazione e il passaggio da A a B non si risolve il problema. Ho già fatto tanti video spiegando come la teoresi severiniana abbia tenuto in considerazione tutte le possibili modalità interpretative del divenire anche prendendo per buono l'ipotesi della realtà fisica delle particelle che dovrebbero determinare le trasformazioni senza presunti aspetti nichilistici invece essi si darebbero come in una presunta realtà fisica apro e chiudo un'altra parentesi il discorso di Severino nega l'esistenza fisica della realtà fisica ma non l'esistenza coscienziale della realtà fisica la realtà fisica non esisterebbe fisicamente ma coscienzialmente quindi il mondo sarebbe una realtà oggettiva non creata dal soggetto non solo per questo ma anche per altri motivi e corrisponderebbe alla rappresentazione fisica da questo punto di vista quindi la realtà funzionerebbe diciamo come se fosse fisica pur non essendolo e risponderebbe al principio di realtà di coerenza e seguirebbe l'ordine naturale delle regolarità empiriche indagate dalla scienza ritornando alla questione centrale di questo video come dicevo prospettare l'ipotesi che qualunque cosa possa divenire altro da sé significa prospettare che l'essere possa divenire nulla perché qualunque positivo è un essere se si prospetta per un singolo caso che l'essere possa divenire nulla o che il nulla che non c'è possa identificarsi non si capisce in quale modo si possa evitare il trivialismo a questo punto perché non si capisce in alcun modo come potrebbe una simile apertura impedire che ogni essere a quel punto possa divenire altro da sé e quindi come possa ad esempio il dialeteismo no o meglio non il dialeteismo insieme ma come possa attuarsi lo stesso tentativo che il dialeteismo ha tentato di adottare per arginare le contraddizioni o anche le logiche paraconsistenti infatti il dialeteismo e le logiche paraconsistenti hanno pensato che un caso di singola contraddizione potesse essere arginato senza far sprofondare un sistema stesso che la contenesse nel puro trivialismo cioè nella pura contraddizione qui invece per quanto riguarda l'ipotesi che l'essere possa diventare nulla in qualsiasi caso possibile non si può arginare in alcun modo poi il trivialismo perché una volta messa questa apertura in nessun modo si può ritenere che altri casi non possano essere analoghi visto che l'unico modo per arginare una situazione del genere è di ritenere che l'essere in quanto tale non possa essere nulla ma se un positivo si ritiene possa diventare nulla o un nulla che non esiste possa edificarsi ma si sta prospettando che allora l'essere in quanto tale può essere soggetto ad annullarsi oppure il nulla identificarsi quindi non può esserci nessun argine e il trivialismo direi che a quel punto ha la massima apertura e non è più arginabile